Allora Presidente, finalmente ci siamo. Di un percorso che noi abbiamo immaginato tutti assieme. Stamattina c'è stato il saluto del sindaco, si è presentato l'ITS, ma la cosa importante è vedere il volto di tanti ragazzi che stamattina qui hanno tutti quanti testimoniato la volontà di poter imparare per fare qualcosa che li aiuta a rimanere su questo territorio. L'ITS assieme agli istituti di scuola superiore è la vera novità della scuola dei Monti Dauni. Noi abbiamo creduto in questo progetto e chiaramente vedere oggi che questo parte è motivo di soddisfazione, di gioia, ma raddoppia anche di più l'impegno che dobbiamo metterci. Ci abbiamo raggiunto un risultato, adesso sento su di me la responsabilità assieme ai nostri sindaci di fare in modo che questo modello possa funzionare e raggiungere i risultati che ci aspettiamo.